Vi auguro una buonanotte. Il messaggio di questa sera è trasforma le delusioni in energia positiva per alimentare il tuo progetto creativo con emozioni autentiche. Il processo creativo è soggetto ad alti e bassi. L'importante è non scoraggiarsi mai. Nei momenti in cui ti senti rifiutato ricorda che nel corso degli anni milioni di artisti hanno provato i tuoi stessi sentimenti. Coloro tra questi che sono stati in grado di ascoltare la propria voce interiore e di ignorare le critiche e i rifiuti hanno anche prodotto le opere che ancora oggi sono fonte di ispirazione per tutti. Forse è giunto il momento che tu guardi un film o legga un libro o un articolo che parli di artisti che sono andati avanti nonostante le critiche per ricordarti che non sei solo. Hai ricevuto questa carta come incoraggiamento a proseguire il tuo cammino. Continua a praticare la tua arte, a perfezionare le tue capacità e a esprimere pienamente la tua creatività. Questo è il messaggio per augurarvi una serena notte. Grazie.